ragazzi ma quando dico che sono a capo dell'industria è perché sono a capo dell'industria e non ci sono stavo pensando che comunque potrei dissare gente per tipo un anno intero potrei dissare talmente tanti personaggi conosciuti che voi non avete idea sarebbe un anno di diss comunque volevo solamente dire che belli followers bello fare le fighe su instagram belli anche likes tutto molto bello ma quanto alzi al mese? dai bello anche mostrare il culo figo anche mostrare le tette tutto molto bello ma quanto alzi al mese? quanto cazzo alzi al mese? è come dire faccio un video su un jet privato mentre canto perché fa figo però poi mi tocca tenere tutto il tempo la testa bassa perché è troppo piccolo bah bah cioè è vital jet no? cioè è come dire dissare gente e poi non far uscire il nome bah comunque noi ridiamo e scherziamo ma io sto continuando a mangiare cioccolato io credo nei prodotti che stanziorizzo infatti guardate cosa ho acceso oggi in casa e non lo sto facendo per la pubblicità cioè quel candle scusate ragazzi ultima cosa poi chiudo la linea o chiudo la bocca vabbè visto che in tanti è stato facendo i fenomeni dicendo ah todesco il tuo vero cognome todesco il tuo vero cognome grazie a cazzo ragazzi mia sorella no ragazzi io sto male ci state facendo dei collegamenti sul fatto del video del jet privato intendevo video musicali non video su instagram e tocca tenere la testa bassa perché il jet è piccolo non altro no vabbè morta